Buon mercoledì 24 giugno. Questa mattina il mio pensiero corre alla bellezza della vita comunitaria, al sentirci sicuri nella relazione di condivisione con il prossimo, alla possibilità straordinaria di coltivare la condivisione del pane. Questo ci rende sicuri in una sicurezza che non è semplice tutela dei confini della nostra pelle o dei luoghi che abitiamo, ma è gioia di non sentirci mai soli. Questa è una realtà che dobbiamo coltivare giorno dopo giorno, anche se la nostra cultura tende verso un isolamento individualistico. La gioia della condivisione è invece la cifra di una nuova cultura, di una cultura che possiamo trovare e coltivare attraverso l'ascolto della parola che ci trascende. Buona giornata a tutti.